Mi piace molto perché hanno trovato un metodo per non lasciarci i suoni in questo periodo e per aiutarci dallo studio. La didattica a distanza per me ha come contro il fatto che il video concentro e di maniera troppo incollata di un dispositivo, però il fatto che restiamo sempre in contatto... La didattica a distanza per me è un salto verso il futuro, che è quell'innovazione che ci permette di andare avanti nonostante le problematiche di questo momento. L'utilizzo di questa tecnologia è un strumento molto importante e anche molto positivo perché riusciamo, nonostante la situazione, a portare avanti la nostra istruzione.